Buongiorno, oggi vlog get ready with me perché andrò per la prima volta al bullying Io sono gasatissima, in 25.000 anni di vita mi sono trasferito, ho fatto viaggio a sola, eh Università, cos'è? Mai andata al bullying, devo fare 21 anni Poi direte, com'è possibile? Raga, non lo so, in Sicilia non ce l'ho mai andata perché non conoscevo dei posti con il bullying attorno a casa mia A Milano non sono mai andata perché non mi è mai venuta la cosa di dire Ma andiamo al bullying, non andiamo al bullying Oggi mi è stato proposto da un uomo, quindi vedremo se rispetterà la promessa E quindi forse si va al bullying Ho pochissimo tempo per prepararmi perché in tutto questo sono le 17.21 e in teoria alle 18 devo andare E tropica o sambadu, Brasil Comunque sono giorni che se mi seguite su Instagram e mi vedete con queste canottierine Avevo messo questa, avevo messo quella nera, quella blu, quella rosa, quella bianca, tutte letteralmente E ora vi dico dove le ho prese perché ve le dovete prendere pure voi Punto di fine frase Io spero che mi si veda ma credo proprio di sì Abbiamo trovato la nostra postazione Adesso vado a mettere anche delle mollettine perché sennò mi trucco pure i capelli Già sono decolorata Se ci metto il correttore sopra Arrivederci Ho sentito un rumore E sono solo a casa Mi chiuderò chiaro in camera Quanti anni hai? 10 Allora ritorniamo dove ce l'avevamo lasciati Metteremo le mollettine per truccarmi Queste canottierine le ho prese a 2,30€ Perché per ora stanno in sconto da Primark Nessuno mi sta pagando per dirvi questa informazione ovviamente Quindi ve lo dico proprio come consiglio spassionato Se vi servono le canottierine Voi sapete che io sto cercando di acquistare molto 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 Meno fast fashion Proprio pochissimo raga Però questa canottierina secondo me è un ottimo acquisto Perché io ne avevo una blu e l'ho utilizzata L'ho utilizzata già da un anno Ed è ancora perfetta L'ho lavata e rilavata Quindi ne vale la pena Cioè non è quel fast fashion che prende i butti Nonostante sia Primark o non so come sia possibile La canottierina mi è durata Iniziamo con una crema Io vado a mettere questa crema idratante Ne metto poca raga perché fa un caldo assurdo E voi direte che scusa è per mettere poca crema La scusa è che se io metto più crema Sudo come non so che cosa Comunque adesso voglio troppo consigliarvi anche un'altra roba Io oggi mi sono svegliata con la chiacchiera nell'anima Da questa mattina che parlo ininterrottamente Nonostante io sia sola a casa Quindi parlo con i video Comunque voglio consigliarvi un'altra roba Che mi sta svoltando la vita Non sto scherzando Mi sta svoltando la vita Punto di fine frase Vado a mettere un po' di correttore più scuro fuori Perché mi sto abbronzando Non è vero però non so perché quello chiaro è troppo chiaro Quindi significa che in qualche modo io mi sto abbronzando Anche se nessuno se ne sta accorgendo L'altro giorno raga Ho messo una foto E tipo ho fatto un dump su Instagram E praticamente in questo dump Avevo messo una foto mia E poi c'era una foto della statua nel dump Mi sono resa conto Riguardando poi le foto Perché io lo so che voi siete come me Che le uniche foto che vi guardate su Instagram Sono le vostre a ruota Lo so Siamo così noi Riguardandomi il dump Mi sono resa conto Che letteralmente io e la statua Abbiamo entrambe la stessa shade di correttore Cioè questa Cioè la stessa carnagione Io ed una statua di marmo Io vi giuro Io adesso alleggo foto Alleggo prova Perché non si dica che Gaia dice le bugie Lo stesso colore identico Io e la statua Il problema chiaramente Ed evidentemente Non è della statua Che vi devo dire ragazzi Il sole Bacia i brutti Perché i belli Li baciano tutti Comunque chi ha avuto per tanto tempo Le unghie stralunghe Saprà Cosa intendo Quando dico la sensazione Di mettersi Il correttore con le dita Stranissima Cioè io quando avevo gli artigli Non potevo Perché già non ci arrivavo Quindi avevo usato i blender e roba Da quando mi sono rifatte le unghie corte È proprio il mio Guilty pleasure Capito Mettermi qua e spalmare Il correttore con le mani Perché invece io posso Toccarmi la faccia Per me è una cosa assurda Capito Poi devo anche scegliere l'outfit E non so cosa mettere Perché i miei pantaloni preferiti Li ho messi a lavare E io letteralmente Stavo vivendo solo di quei pantaloni Da tipo una settimana Perché mi sono innamorata follemente Quelli là neri Tutti con le frange Che avevo messo anche sui G Bellissimi Ok ho messo il correttore Devo mettere cipria E quant'altro Ma prima voglio farvi vedere Questa roba che ho comprato I 15 euro Meglio spesi Della mia vita Bellini Io però la sono in fissa Con i video di Bacca Power Avete presente Che dice sempre Bellina Quindi io dico Bellini Questo qua È la cosa Di cui avete bisogno Cioè allora Non so se ne avete davvero bisogno O ero io soltanto Ad averne bisogno Ok Vi racconterò questa storia Non troppo felice Di me e il sudore Voi direte Che ai amati Sembra un tema Sì Perché io Ho questo problema Quindi mi dovete sopportare Mentre continuerò Il mio bellissimo make up Allora praticamente Dall'incercativo sempre Io ho un piccolo problema Di sudore Cioè Te lo spiego easy Avete presente le persone Che quando sono in ansia Diventano rosse Avete presente le persone Che iniziano a balbettare Le persone Che si dimenticano tutto Le persone Che piangono Che diventano esteriche Che gli vengono In realtà Che i panico Benissimo Io Non ho tutte queste cose L'unica cosa che mi succede Quando sono in ansia Quindi quando devo fare un esame Quando devo Vedere una persona Quando che magari Non voglio vedere O quel che è importante Eccetera eccetera O magari devo fare una roba Per lavoro Quindi sono un po' in ansietta Perché spero vada bene Bla 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 Ma io sudo La mia forma di espressione È il sudore Tu dirai Carino Carino Sì Ed è strano imbarazzante Perché io mi lavo Con cadenza praticamente Oraria Perché so che sono così Quindi soprattutto Se c'è un'occasione particolare So che andrò a sudare palesemente Io mi lavo prima Mi lavo nel mentre Mi lavo dopo Metto di odorante Mi assicuro di essere mi suonata bene Continuo a mettere di odorante Metto profumo Insomma Faccio di tutto Per evitare Che questa cosa avvenga Continua ad avvenire E questa cosa va avanti Da tipo anni Diceva avanti Secondo me Dalle superiori Dove io vi giuro Raga Alle superiori Possono confermare Le mie amiche Io andavo Nel bagno della scuola Ad andarmi a lavare Le ascelle Non so perché lo stavo dicendo A bassa voce Manco posso una brutta parola Le ascelle Voi direte Caglia in che senso Letteralmente Io mi rendevo conto Di fare un cattivo odore Ringraziando al cielo Io sono una di quelle persone Che se ne regge Non è che Non me ne rendo conto Io lo capisco Magari muoio dall'imbarazzo Perché voglio esplodere Perché in quel momento È la cosa più imbarazzante Al mondo Perché tu sa Che gli altri lo sentono Magari Oppure no Non lo so raga Io ve ne sto parlando Onestamente Proprio così In maniera libera Perché è una cosa Che in realtà A me ha causato Tanto imbarazzo Però voglio che Si tolga un po' Lo stigma Nel parlare di sta roba Ma più che altro Perché io Togliendomi sto stigma Ho scoperto lui E adesso vi spiego Andiamo avanti Il tempo passa Ma il mio problema resta E rimane anche All'università Io non so perché Cioè questa cosa L'ho sempre visto Con imbarazzo Ma un imbarazzo Faccio finta di non capirlo Cioè faccio finta Che non sia un problema Mi continuo a lavare Mi continuo a repire Il diodorante Fingendo che non sia un problema Non ha funzionato Come metodo Infatti l'altro giorno Stavo facendo un esame Appunto perché Stavo facendo un esame Il mio metodo di espressione Come vi ho detto Studare E mentre facevo l'esame Mi sono resa conto Che c'era cattivo odore Che poi io ripeto Ho la fortuna Che il mio cattivo odore Non è un cattivo odore acido È tipo un cattivo odore Si sente che stai sudando Però si sente pure Che ti sei riempito Il diodorante Quindi è tipo Odore di diodorante All'estremo Più un goccio Del fatto che tu stai sudando Ok Però io sono dovuta Stare per tutto l'esame Così A scrivere come se nulla fosse Fingendo di non essere La persona più In imbarazzo dell'aula In quel momento Allora sono uscita All'esame E stavente Ho detto Io devo trovare una soluzione Mi sono messa a guardare Un sacco di video Per la prima volta Ragha Nonostante questo è un problema Che mi porto dietro da 3000 anni Per la prima volta Mi sono messa a guardare Bene dei video Comunque c'è una mosca Che qua Vuole fare la star Quindi Per la prima volta Mi sono dato una mossa Ero sul treno Quando mi sono messa a vedere i video Ho trovato su TikTok Dei video dove facciano vedere Un sacco di prodotti Tra i prodotti C'era appunto questo Scendo dal treno Vado per andare verso casa Tipo di passaggio C'è una farmacia Mi fermo in farmacia Lo prendo 15 euro Voi direte Tanto lo so Ma i 15 euro Mi ho spesi la mia vita Il prodotto è fatto così Lo vado ad applicare adesso Perché mi sono appena lavata Mi ha chiamato l'uomo Vi stavo dicendo Questo qui E il prodotto Cioè vi giuro Questa più mini dell'universo Così Adesso lo vado ad applicare Perché non l'avevo ancora messo E mi sono appena lavata Quindi lo metto In teoria si dovrebbe mettere la sera Ma Credo si possa mettere anche di giorno Io le altre sere L'ho messo appunto la sera Prima di dormire In modo tale che agisse lentamente Adesso lo vado a mettere di giorno Però Brucio un po' Infatti in questo momento Mi sta bruciando Ma è una cosa molto sopportabile E adesso vi dico cosa fa È un antitraspirante Non un deodorante E questa cosa va Cioè da quello che ho capito io Raga Di studio di comunicazione Giusto? Ricordiamoci Da quello che ho capito io Va ad ostruire Praticamente Tipo I bugli Da dove esce il sudore Le vie Da cui esce il sudore Non te lo so dire Va a ostruire I posti Da dove esce il sudore Che tu direi È salutare Da quello che ho capito Non è un problema Io lo sto utilizzando solo da tre giorni Quindi prendetemi con le linze Questa mia raccomandazione Però vi giuro La cosa più bella Che io abbia mai provato In tutta la mia vita Quindi col cavolo Andate a spendere questi 15 euro Se soffrite Allo stesso problema La cosa bellissima È che non è che ha un profumo Questa cosa è in odore Cioè tu puoi sopra Ti puoi mettere il profumo Quello che vuoi Volendo Penso tu ti possa mettere Anche il deodorante sopra Se vuoi Cioè è in odore Completamente Non sudi O comunque Se sudi Non si sente niente Cioè tu fai così Potrebbe essere Veramente un'altra parte del corpo Cioè non capisci Che sono le tue ascelle Questo video sta degenerando Raga Ma io voglio essere così Ieri sono uscita Tipo tutto il giorno Non ieri L'altro ieri Zero cattivo odore Zero Ora con la batteria scarica Forse si sta per spegnere Vabbè Devo concludere il discorso Insomma Io sono grata Al mondo Per aver creato I social Questo posto meraviglioso Dove ho scoperto Questo prodotto meraviglioso Che mi ha cambiato la vita Lo conosco a tre giorni Sì Mi ha comunque cambiato la vita Sì Ladri Quindi questo è quanto Ve ne volevo parlare Perché se io l'avessi saputo prima L'avrei comprato subito 15 euro A parte che comunque Credo che duri un botto Sto robbo E poi Cioè 15 euro Io l'ho speso in Bari 3 mila 3 miliardi Di sprayini Sprayetti Che alla fine Non mi hanno mai fatto niente Anzi hanno peggiorato Solo la situazione Quindi per una volta Vi dico Andate in farmacia Spendete più soldi Il previsto Ma li valgono tutti Io raga Non so giocare a bullying Questa cosa sarà molto imbarazzante Cioè io non so veramente Neanche come Come è fatto un bullying Cioè Io ho la scena dei film In mente Però se non è così Potrebbe trollarmi il mondo addosso Che troppi Caos Io sto continuando A utilizzare Questo mascara Tipo finitissimo Di Primark Ma è la vita Anche se è il momento Di comprarlo Quando pensate Di avere un problema Tipo irrisolvibile Dovete pensare Che siamo un botto Nel mondo Quindi si palese Ce l'ha qualcun altro E palese Il consumismo Il capitalismo Ha fatto in modo Di trovare una soluzione A quel problema Per arricchire le tasche Ai produttori Quindi state sereni Adesso andiamo A scegliere l'outfit Anche se probabilmente Tipo mi si spegnerà La videocamera Tra circa due secondi E mezzo Quindi in caso Lo sceglierò da sola Piangendo Al momento Il mio outfit è questo Canottirina Che ho tenuto Per stare in casa Però che volendo Potrei pure lasciare Perché è semplicissima E per ora C'è il pigiamino sotto Che in realtà È pure un pantalone Di mia cugina Che è rubato Andiamo a vedere Potrei Voglio essere molto casual Capito Voglio essere molto sportiva Cioè sono andata a giocare A bowling Secondo me Sarò fortissima Ma sì Io andrei Con questi pantaloni Strappati Tanto mia mamma È in Sicilia E non può impedirmi Di mettere questi pantaloni Super strappati Molto carini Così Questo toppino Lo lasciamo Secondo me Perché comunque ci sta Mettiamo un po' di gioiellini E acchettiamo tutto Comunque raga Questi giorni Dovrei troppo andare in palestra Per disiscrivermi Voi direte Gaia In che senso? Letteralmente In questo senso Perché Assendo che poi vado via Per qualche mese Appunto per l'estate Non starò qua a Milano E voglio Disiscrivermi Più che altro Perché la pago 60 euro al mese E non ci andrò Sicuramente in quei mesi lì Quindi è inutile Anche i capelli raga Devo tagliarli Perché ho le punte Non so se si vede Però Stra rovinate Poi io le cose Le vedo il quintuplo Cioè magari Non sono così rovinate O magari sì Sì vedete Sì vedete Sono un po' Rovinatine Mi stavo guardando Pure un video Di quando avevo il caschetto Raga Non mi fate venire Strane idee Mettiamo i nostri Occhialini Da Inzalatoola Like that Sì voglio mettere Qualche gioiellino Mi sa che metto Un po' di anelli E un orologio Magari Questo anello qui Che non state vedendolo Vedete sì Poi mi metto Questo anello qua Con la pietruzza verde Che va ad abbinarsi Con il quadrante Dell'orologio Che vedete Pure verde Anche se è un verde diverso Poi ho sempre il mio anellino Questo qua ce l'ho sempre Da tipo più di un anno Tipo non lo levo mai Se non per due secondini Così Semplici E mettiamo anche l'orologio Comunque raga Mi stanno arrivando Un po' di cosine Da mostrarvi Quindi se siete amanti Degli unboxing Dei video haul Aggiornate spesso I G Oppure anche I shorts Qua su YouTube Perché ve ne sto pubblicando Un botto Tipo non so se avete visto Quei vestitini bellissimi Mi sono arrivati Qua insieme a me C'ho dei prodotti Che mi ha inviato Neonail Vi cercio a dare Una sbirciata velocissima Poi li vedrete sui G Ma io vi giuro Innamorata perdutamente Quindi io ho l'hype a mille Qua c'è tutto E praticamente sono Dei nuovi prodotti Che sono Degli sticker Che però Praticamente fungono Da semi permanente Cioè E' assurda come roba Infatti non vedo l'ora di provarla Ancora non li ho provati E poi ci farò un video E guardate quanti smalti Mi ha inviato Neonail Cioè questi qua Sono quelli che cambiano Colore Con il calore Non vedo l'ora di provarli Non vedo l'ora Io sono pronta E sono anche in anticipo Quindi adesso Aspetterò L'orario corretto Fatemi sapere Se questo video vi è piaciuto Se volete altri video Di Get Ready With Me Quando vado a fare delle cose Perché io Adoro registrarli Soprattutto se così Chiacchieriamo un po' Ci diciamo i fatti nostri Vi dico le mie problematiche Di sudrazione E nulla Noi ci vediamo al prossimo video Adio Mua Noi ci vediamo al prossimo video Noi ci vediamo al prossimo video